Aspetto 8.36, quindi 20 minuti di tempo ovviamente anche per gli ospiti di quest'oggi per presentare idee, programmi, prospettive, proposte, insomma magari anche con il vostro contributo. Noi con l'Italia abbiamo allora qua in studio e lo ritrovo quindi dopo gli anni anche di assessore in giunta a Como, ex assessore appunto Umberto D'Alessandro, è qui con noi, buongiorno caro Umberto, intanto buona giornata, buongiorno a te caro Umberto e poi c'è anche Alessandro Falanga, candidato consigliere, buongiorno Alessandro, buongiorno caro Alessandro anche a te. Grazie di essere con noi, Umberto inizi tu, allora per, beh intanto facciamo una breve carta di identità di Umberto D'Alessandro. Non ti chiedo gli anni. Gli anni li dico perché non sono una signorina in erba per cui compirò 80 anni a settembre di quest'anno. Eh però, eh, li porti bene Umberto. Benissimo. Diciamo che ce la capiamo, noi, gli impegni sono tanti, ti aiutano a vivere, ti aiutano a costruire, ti aiutano a essere una persona al pezzo, come si suol dire. E la carta di identità è molto semplice, io arrivo a Como nel 63, tantissimi anni, ringrazio Como per quello che mi ha dato e spero anche che sia riuscito a dare qualche cosa a Como io. Ho partecipato alla prima giunta Stefano Bruni, alla seconda giunta Stefano Bruni, assessore prima ai parcheggi, mobilità, archivio, protocollo e ambiente, secondo mandato urbanistica. Che non è poca roba. Poi ho interrotto questa esperienza lunghissima perché il sindaco di allora Stefano Bruni chiedeva una persona di fiducia che guidasse ACSM Agam che era in piena fusione con Monza e quindi un momento molto delicato. Quindi sei andato ad ACSM. E sono andato a fare il presidente del consiglio di amministrazione di ACSM per tre anni, alternandolo con tre anni successivi da vicepresidente così come erano gli accordi tra i soci. Successivamente sono stato consigliere di minoranze all'interno sempre di ACSM Agam per le successive tre anni come nominato dalla fondazione Caripro che ritenne opportuno trattenermi come memoria storica del percorso di ACSM Agam. Adesso noi per l'Italia. Questa nuova sfida, Umberto, che ti vede protagonista, tu non sei candidato, ecco lo diciamo, ma sei componente del direttivo, è corretto? È corretto, non sono candidato, la politica è sempre appassionata, è mia passione ancora e quindi intendo dare una mano a tutti gli amici che in questa corsa, che è sempre complicata, perché una corsa è sempre complicata, nessuno deve pensare che siccome è più bravo, pensi di essere più bravo a vinto, mai, mai, mai. Io una volta in un comune persi un comune con la mia coalizione per un voto, quindi... E non ti chiedo che cosa si può fare... No, 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 posso anche dire in comune era a Bellagio, era il tempo della mia lista civica, la mela, perderebbe per un voto. No, ti dico che cosa si prova, in effetti credo... Si prova dei brividi di morte. Esatto, della gran rabbia. Si prova dei brividi di morte. Penso proprio di sì. Allora, presentiamo anche Alessandro Falanga. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti. Giratemi più verso il microfono, scusami perché... No, ok, è anche la telecamera, perfetto. Benissimo. Carta d'identità, chi è Alessandro Falanga? Alessandro Falanga arriva a Como all'età di 17 anni, viene in questo modo adottato da questa splendida città e negli ultimi 43 anni sono stato appunto, ho avuto varie esperienze amministrative come dipendente, come tecnico. Infine, negli ultimi 16 anni ho diretto l'autorità di vaccino dell'Ario e dall'anno scorso sono andato in pensione e ho deciso di mettere... È la prima candidatura? La tua? L'ho fatta un po' di anni fa, sempre come consigliere, però non sono mai stato eletto. Ok, quindi... Cioè, quindi diciamo che la passione per la politica c'è e dicevo che sono andato in pensione e ho deciso di mettere a disposizione di questa città che mi ha ospitato e adottato tutta la mia esperienza. Ciò che ho avuto da questa città voglio renderla a tutta la città e ai cittadini. Ed è per questo che con gli amici di noi, con l'Italia, abbiamo appunto deciso di partecipare e rafforzare il centro-destra in questa competizione elettorale amministrativa appunto con Giordano Molteni, sindaco, e assieme a Forza Italia e Democrazia e Sussidiarietà abbiamo appunto creato una lista di candidati a sostegno. Ok, hai già detto Alessandro appunto che supportate Giordano Molteni, candidato sindaco, centro-destra ovviamente, quindi ci siete voi, c'è Forza Italia poi, e poi c'è anche quell'altra lista di Democrazia e Sussidiarietà, quindi tutti assieme insomma per creare una lista insomma a supporto. Ne approfitto, già che ci sei ovviamente, vi sono detto che sostanzialmente è una delle prime tue candidature. Che cosa ti senti di dire, cioè qual è un impegno concreto che ti senti di dire ai telespettatori e radioascoltatori? Allora, l'impegno concreto intanto è proprio mettersi al servizio della città e mettere appunto al servizio della città la propria esperienza. Credo di avere un'esperienza amministrativa forte, perché mi sono occupato nella mia vita professionale professionale di cultura, di turismo, di beni culturali, di demanio lacuale, per cui conosco bene la macchina comunale, ho fatto anche consulenze in materia di bilancio, ho una grossa esperienza in gestione del personale e credo che probabilmente dobbiamo proprio partire da lì rendendo partecipe la macchina comunale al programma che gli amministratori che andranno a gestire la città vogliono portare avanti. Dobbiamo fare in modo che, perché il personale, quindi tutta la gestione tecnica amministrativa, è il motore per poter portare avanti le proprie idee, il proprio programma. Se noi non diamo questa opportunità a chi opera all'interno dell'amministrazione comunale, abbiamo fallito già in partenza. Saluto anche tanti i nostri telespettatori, perché ci stanno guardando anche in video, che sono Sofì, Agnese, buongiorno, Cinzia, Ruggero, Angela, Giuliano, Giovanni, buongiorno, Moira, buongiorno anche a te. Devo dire che sono molti quelli che ci stanno seguendo in questi giorni proprio per cercare di capire, poi idee, prospettive, programmi, progetti concreti. Umberto, tu, dall'alto della tua esperienza anche di ex amministratore, che cosa ti senti di dire? Che cosa voi potete, come noi per l'Italia, portare alla coalizione? Intanto, l'hai già detto, portiamo tanti anni di esperienza. E questo è necessario per riaprire uno stato di serenità tra le componenti che andranno a sostenere e sosterranno successivamente il sindaco Giordano Molteni. Perché una delle prime cose che probabilmente dovrà funzionare bene è il meccanismo di empatia tra il sindaco, la macchina comunale e i cittadini, che negli ultimi anni è stato un poco preso sotto gamba. Oggi c'è un distacco, la gente non riesce più ad essere appassionata al discorso della politica. Però poi dopo, ecco, questo è vero, perché con te si può anche fare questo discorso, Umberto. Tanti poi dicono, però non va, non funziona, però qua ci sono le cose che non vanno. Ad esempio c'è anche il nostro Andrea che ci chiede, poi ve lo butto lì, sugli impianti sportivi. Quindi magari una valutazione fatela anche voi. Ecco, però poi dopo c'è questo... perché questo... Perché c'è stato continuamente, negli ultimi tempi, un ricambio proprio anche dei consiglieri. Non c'è stata più una continuità che si è potuto sfruttare le esperienze di chi ha fatto i primi cinque anni e poi ha fatto i secondi cinque anni con il giusto metodo e con la giusta attenzione. E allora succede, poi devo dire, a onore del vero, questi ultimi due anni sono stati un po' anche resi brutti dalla pandemia. Senza dubbio, senza dubbio. Gli uffici chiusi, la gente non ha contatto, vedi il comune come una struttura, un immobile e non capisce che là dentro pulse il cuore della città, non capisce che è là che bisogna affondare veramente le attenzioni. Perché se funziona là funziona tutta la città, se funziona quel padiglione, quello stabile, quell'immobile, che non è il padiglione, è il municipio, è la casa dei cittadini. Il sindaco, Giustano Molteni, io consiglierò di avere dei rapporti costanti con coloro che operano all'interno del comune, perché attraverso una conoscenza pedisse qua di quelle che sono le stanze, i dirigenti, i operatori normali, questi cittadini devono avere l'occasione di poter parlare con il sindaco, rivolgengli delle domande anche in prima persona. Io ricordo che si faceva, io lo facevo, adesso non voglio parlare di me, del sindaco Giustano Molteni, che è persona per bene, è persona colta, è persona sportiva soprattutto, e quindi chi fa sport sa i sacrifici che si fanno nello sport e sa anche scegliere i momenti in cui intervenire e trovare energie nuove. E quindi io dirò questo al sindaco Molteni nei giorni e nei tempi che verranno per portarla alla vittoria. Secondo me è uno dei passaggi fondamentali per vincere, riavvicinarsi alla gente. Poi ci sono dei problemi e li discuteremo. Alessandro, senti, ecco, la domanda, lo spunto di riflessione del nostro telespettatore, che è Andrea appunto, che lo ha chiesto anche a tutti coloro che vi hanno preceduto nei giorni scorsi. Impianti sportivi, lo sport, dallo stadio, che direi che è l'apice, al palazzetto di Mugio, che è chiuso, alla piscina di Mugio, che è chiusa. Io parto da un presupposto. Lo sport, essendo stato uno sportivo anch'io, è la base fondante della crescita umana di una persona. Per cui un'amministrazione pubblica deve rendere questa possibilità ai propri cittadini e quindi creare ed avere strutture sportive che siano funzionali e che possono essere godute. Per quanto riguarda lo stadio, ritengo che comunque sullo stadio, pur lasciandolo dov'è, vada comunque riqualificato, vada riqualificata tutta l'area intorno allo stadio. Creare appunto passeggiate un po' più decenti rispetto a quelle che ci sono attualmente e come ha bisogno di un palazzetto dello sport, come, io ricordo quando sono arrivato ragazzino, aveva una piscina olimpionica, oggi non ha più niente. E quindi bisogna veramente avere un'attenzione particolare a queste cose, dare la possibilità agli istituti scolastici di poter fare sport attraverso, Guardi, faccio solo un esempio. Io sono stato uno dei fautori del Centro Remiero di Eupilio. Il Centro Remiero di Eupilio, che non solo che è stupendo, veramente in qualche modo mi attribuisco la paternità di questo centro, e oggi il Centro Remiero va nelle strutture scolastiche e porta le scuole, e quindi i ragazzi delle scuole, a fare sport in un ambiente così bello, in un ambiente così naturale, in un ambiente così sano. E questo dà la possibilità ai futuri cittadini e amministratori della città di crescere in modo sano. Ok, perfetto. Giuseppina, buongiorno anche a te da Liegi, ci guardano anche dall'estero. Buongiorno a te, un caro saluto anche a Ruggero, ad Angela, buongiorno a Giuliano. Diretta con noi per l'Italia, noi con l'Italia, oggi lista che si presenta a supporto del candidato Giordano Molteni, candidato del centro-destra, per queste elezioni. Abbiamo già parlato, avete già spiegato allora quelle che sono le indicazioni per quanto riguarda il mondo dello sport. Però bisogna poi davvero quindi realizzarli questi impianti, Alessandro, perché effettivamente è difficile poi poter pensare anche per i prossimi anni situazioni come per esempio quelle che ci hanno detto ieri sera, le ragazze che sono venute qui, delle Rane Rosa, promosse in serie A1 di pallanuoto femminile, sono costrette poi ad andare a giocare a Monza le partite decisive, quella di domani ad esempio. Umberto, che altro c'è nel programma che tu, dall'alto della tua saggia esperienza, mi permetto di dire così? Assolutamente. Vuoi dire a Molteni una collezione? Sicuramente gli dirò qualche cosa anche, però una coda sull'area sport la vorrei riprendere, perché la memoria non deve essere abbandonata. La seconda giunta Bruni, il palazzetto dello sport, l'aveva già approvato in consiglio comunale, il progetto era finito, quando venne il PD a dirige, a comandare, a governare questa città, una delle prime cose fece, lo ha affosso completamente, quindi il PD ha poco da recriminare se non c'è questa possibilità di fare sport, è stato il soggetto, attuatore della morte del palazzetto dello sport di Comune. Poi altri vicissitudini sono subentrate, si sono verificate e quindi è rimasto poi la parte avvelenata della costruzione. Questo lo dico con forza, perché bisogna ricordare poi le cose come sono. Oggi si parla tanto di TICOSA. Quando era assessore all'urbanistica il progetto TICOSA, il PI TICOSA, Piano Integrato Intervento, era stato approvato dal Consiglio Comunale ed era in adozione. Poi c'è stata la vicissitudine della Leambrati che è fallita, la Multidevelopment che era capitalizzata da quella banca e quindi non ha potuto. Ma non c'era una disattenzione nei progetti. Allora bisogna riprenderli con la certezza di metricipazione. Io non ho avuto più modo di parlare con il sindaco Landricina, ma sicuramente attribuisca al sindaco alcune colpe per non aver saputo guidare bene la barca, la nave e lasciare in piedi, per esempio, la piscina. Siamo alla fase del bando e siamo fermi da mesi. Siamo fermi da mesi. Ma non può dire che i miei uffici non mi seguono. Caro sindaco Landricina, sei il sindaco. E il sindaco è il primo che gode ed è il primo che deve soffrire. E stavolta deve soffrire della mia critica, perché non ha fatto niente per portare in barca, in Porto Sano, la piscina. Ci mancherebbe altro. Hai diritto, a tutti hanno il diritto ovviamente di dire la loro, sempre nei limiti ovviamente. Ci mancherebbe, ma siete stati. Ma io sono i brutti ai compi. Salvatore, buongiorno anche a te. Andrea, ancora un caro saluto. Bene, allora abbiamo quattro minuti. Quattro minuti. Quattro minuti di tempo ancora per essere corretti. Allora magari Alessandro puoi usarli tu per rispettare pienamente i tempi. che cosa poi ti senti dire. In aggiunta a quello che abbiamo già detto, a quello che avete già detto, aggiungo, dico un'altra cosa ai nostri amici che ormai ci seguono, nelle prossime settimane con un camper, gireremo, andremo in vari punti, ovviamente vi inviteremo per andare a toccare con mano lì e sentire anche che cosa dice la gente dei quartieri. Guarda, io parto proprio da quest'ultimo, dai quartieri. Noi abbiamo bisogno, Como non è solo la Convalle, Como è formata appunto da quartieri che sono delle piccole città all'interno della città. Bisogna appunto fare in modo che questi quartieri diventino più vivibili. Bisogna creare appunto anche lì infrastrutture pubbliche per poter far vivere i cittadini nell'ambito appunto del proprio quartiere. Dare servizi, dare servizi, giardini. Io vado in giro proprio perché da un anno sono pensionato per cui riesco anche a vedere quello che c'è sulla città. Quello che manca, sento parlare appunto le mamme che portano i bambini ai giardini. Cioè noi abbiamo tanti piccoli giardini ma tenuti male. Cioè dalla panchina al taglio dell'erba. Cioè quindi c'è bisogno. Negli ultimi anni ho girato tantissimo il nord Europa e io ho preso spunti, tantissimi spunti dal nord Europa. Una volta erano gli altri che prendevano spunti da noi. Oggi dobbiamo andare fuori per prendere spunto e dare a questa città la connotazione di prima città italiana che ospita appunto il nord Europa. Cioè ma noi siamo... Ma poi il turismo. Il turismo va guidato. Non si può pensare di avere appunto un turismo che affolla solo le strade di Cuomo. Ma cosa per i turisti secondo te servirebbe a vostro giudizio? Bisogna. Per chiudere perché siamo... Bisogna creare... Minuto e mezzo. Minuto e mezzo. Minuto e mezzo. Allora bisogna creare appunto dei pacchetti turistici che diano la possibilità di far confluire i turisti nei vari settori di cui appunto vogliono godere. dalla naturalità della città, del lago, dell'ambiente per cui percorsi che si fanno in trekking turismo appunto culturale, architettonico cioè queste sono le cose che bisogna fare. Allora visto che Umberto voleva chiudere lui allora un minuto anche scarso Umberto per rispettare i tempi mi raccomando. Assolutamente rispetto ai tempi e chiederò al sindaco Giordano Molteni di varare come uno dei primi provvedimenti il rifacimento dell'illuminazione pubblica a Como. Non è più possibile rappezzare e rattoppare tutte le volte che una tratta va in disuso. È la città di Volta e non possiamo essere al buio. Quindi questo è uno dei provvedimenti? È uno dei provvedimenti che credo debba avere priorità anche perché è facile farlo. Non dimentichiamo la sicurezza. Non dimentichiamo la sicurezza che è una cosa molto importante. Ne parliamo in uno dei prossimi incontri. Alessandro, grazie. Allora Alessandro Falanga, candidato consigliere noi con l'Italia Umberto D'Alessandro ex assessore suggeritore nel termine così Umberto. No, ti conosco da tanti anni. Quindi grazie di essere stati con noi abbiamo presentato la lista. Buongiorno. Grazie Umberto. Grazie. Grazie.